musica vedo l'ora già di avere così con gli schermi che controllo tutti i villaggi non vedo l'ora droni ovunque ovunque con la mia voce come di becca vi dirà che cazzo dove cazzo vai torna a casa questa sarà la voce del droni non si esce questo è l'ordine del sito che non è basta vi becco uno a uno non vi posso impedire formalmente di uscire da casa? beh vi impedisco di passare un po' non si esce da casa nel passio nel bambino non si esce questo è l'ordine del sito che non è basta dove cazzo vai con la casa? ma cacci il culo ecco qual è il modo per far afficare le norme non si esce questo è l'ordine del sito che non è basta non si esce da casa nel passio nel bambino non si esce questo è l'ordine del sito che non è basta dove cazzo vai con la casa? ma cacci il culo ecco qual è il modo per far afficare le norme non si esce questo è l'ordine del sito che non è basta arrestatemi pure chiaro grazie a tutti Grazie a tutti